Allerta di Coldiretti per il gelo improvviso che potrebbe provocare danni a frutta e ortaggi. Il brusco abbassamento delle temperature con freddo e gelo notturno danneggiano le coltivazioni di verdure e ortaggi all'aperto in un inverno fino ad ora bollente ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti per l'arrivo del ciclone d'aria gelida con neve, piogge e venti. Abbonati a soli 9,90€ all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.